Volete rindigolire i vostri addominali? Volete essere pronti per la prova costume? Con risultati rapidissimi? Vi presentiamo AB Rocket, il vostro nuovo personal trainer che renderà quegli esercizi noiosi e dolorosi, divertenti ed efficaci. Questo nuovissimo e pratico sistema di allenamento per addominali è sulla bocca di tutti perché è facile e farà sparire la pancia, lo stress e il dolore e voi amerete fare gli esercizi addominali come mai successo prima. Guardate che risultati hanno ottenuto queste persone in sole 3 settimane. Chiama ora 840 50 40 11 Non perdere un attimo e chiama Media Shopping per avere la sicurezza di acquistare un gran prodotto con caratteristiche tecniche e rapporto qualità-prezzo davvero uniche. AB Rocket, soli 99,90 euro. Quando? Solo in 99,90 euro. Il segreto di AB Rocket è la tecnologia del cilindro di resistenza. Sono i cilindri ad aiutarvi ed offrono l'adeguata resistenza nella fase discendente e poi vi aiutano nella fase di risalita. Questo movimento, il nuovo movimento creato per AB Rocket, aiuta a focalizzare il lavoro sugli addominali, bassi, medi, alti e obliqui. Con i suoi 3 livelli di resistenza, chiunque può usare AB Rocket, uomini e donne, e di tutte le età. Anche io! Chiama subito. 840 50 40 11 E ordina il tuo AB Rocket. Acquista con la tua carta di credito e risparmi tantissimo sulle spese di consegna. I cilindri studiati appositamente per AB Rocket creano la necessaria resistenza al movimento discendente, così non cadete all'indietro. E vi sorreggono nel movimento ascendente, dandovi la spinta necessaria a non stressare il collo e la schiena, ma nello stesso tempo, senza che voi ve ne rendiate conto, obbligano i muscoli addominali a lavorare e voi mantenete il vostro sorriso, senza fatica, senza sudare, portando giorno dopo giorno la vostra pancia a scomparire. Chiama adesso 840 50 40 11 e ordina il tuo AB Rocket.